La partita contro gli imbattibili dopo esser tornati alla vittoria e il recupero della prima giornata del campionato di serie B2 femminile girone N. Incontro di Agnostic Group Ostia-Ossi. Ecco il servizio e Agnostic vince! Alte brecche con questo servizio di Irene Abbruciati che porta Ostia alla vittoria. Secondo successo al te brecche in tre giorni. Quinta vittoria in campionato per Ostia che sale a quota 13. È stata una bellissima partita, peccato per l'infortunio alla giocatrice Cao. Questo è il gesto più bello con le ragazze che si stringono le mani. Essere state brave a mio avviso a restare calme dopo le tensioni che ci sono state tra i due allenatori. Inizialmente è stato molto difficile, però successivamente abbiamo giocato come abbiamo sempre fatto senza alcun rimorso. Ti aspettavi un debutto così? Così complicato? No, se devo dire la verità no, per niente. Diciamo che le ragazze hanno avuto più cervello di noi grandi, mi ci metto pure io. Diciamo che non si doveva arrivare a questa conclusione, mi dispiace, mi dispiace tanto. Non è un bel esempio per le ragazze. Le ragazze sono state tranquille, calme, hanno vinto, hanno voluto vincere. E' un'informazione rimaneggiata, poi rimaneggiata che mancava solo Caracci e Cardarelli un po' di tempo che manca. Voglio fare un plauso a Flavia Saveri che ha giocato bene, ha fatto quello che doveva fare, non ha fatto di più. E purtroppo sono successi questi piccoli previsti, diciamo, un po' brutti a vedere. Poi abbiamo preso i due punti, sono d'accordo, però avrei preferito non andare a questo livello di screzio fra i due allenatori. Le ragazze sono state molto brave nel rimanere concentrate sul gioco nonostante tutto quello che è successo fuori. E' stato un brutto episodio, una brutta cornice in una partita che forse è stata quella più di livello della stagione che abbiamo giocato noi contro una buona squadra. E' andata bene, abbiamo vinto. Quello che è successo al quarto set con l'infortuna della ragazza mi dispiace perché fino a quel momento è stata una delle migliori in campo. Va bene, è finita così, il campo poi alla fine regola un pochettino tutto quanto. Il cammino sarà ancora lungo, sarà ancora difficile, ma questa è una buona iniezione per andare avanti.